Stati Uniti è boom di vendite di prodotti plant-based per un valore di 7,4 miliardi di dollari, un vero e proprio record per il settore. La carne vegetale da 962 milioni di dollari nel 2019 nel 2022 vale 1,4 miliardi di dollari con un tasso di crescita del 45%. California, l'azienda Blueview, crea le prime scarpe 100% biodegradabili vegan al mondo, composte da una schiuma poliuretanica per le suole e da tomaglia lavorata macchina a base vegetale. Non contengono alcun materiale sintetico o di origine animale. L'olio di microalghe potrebbe sostituire l'olio di palma. Lo sostengono i ricercatori dell'Università di Singapore. Le microalghe sono più sane e ecosostenibili dell'olio di palma, oltre a rigenerarsi naturalmente la loro raccolta ha un minimo impatto sull'ambiente. Florida, gli studios dedicati a Harry Potter, The Wizarding World, offriranno opzioni vegan ai visitatori, una scelta che risponde alle richieste della Fondazione Protego, organizzazione animalista ispirata al mondo magico della saga. La scelta che si chiama, la scelta che non c'era un bel po' di origine animale.